Oggi andiamo a registrare un video in cui facciamo le domande relative al nostro cammino di Santiago in bici In realtà le domande sotto all'ultimo video ne sono arrivate poche Anche se sono arrivate un botto di commenti positivi Un botto sempre per i miei numeri che sono pochi Ma l'affetto mi è piaciuto tanto Quindi oggi con Alessia Tadei che è qui al mio fianco Se vuoi per ridere in camera fai pure una parizione Ci siamo detti di farci 7 domande a testa Io a lei, lei a me ovviamente E altre 3 che invece sono comuni per entrambi E basta, prova a parlare, secondo me si sente Prova, prova, ciao Sì, potevi anche dire qualcosa di più intelligente 1, 2, 3 Guardo in camera io quindi Iniziamo? Vai Iniziamo Prima domanda Quanto il tuo essere organizzato e smart nella vita ha inciso sul benessere del viaggio? 10 su 10 Senza di me saremmo penso chiusi nell'atrio di sto palazzo ancora in cerca di capire come uscire Perché hai così poca fiducia nell'organizzazione di Alessia? Perché ti perdi anche dentro casa tua Principessa dove sta uscendo? Domanda Le ne hai... guarda camera Le ne hai mai dato occasione? Cioè le hai mai viste? Di tenere qualcosa? Esatto, la prova su questo Allora Devi essere sincero eh Va detto che una volta a Madrid ha organizzato lei il tour dei bar ed è stata molto brava Ci ha vissuto 6 mesi quindi era un po' facilitata Andiamo avanti Questa è la risposta Obiettivamente Considerando il tuo allenamento ma soprattutto la tua resistenza Se lo avessi fatto da solo questo viaggio quanto ci avresti messo? Io ho una risposta molto breve e coincisa Che questo viaggio secondo me l'avrei fatto in una settimana senza pensieri Magari cioè le allunghi a 9 giorni considerando due giorni di sosta però mediamente almeno 120-130 km al giorno Li avrei fatti nello stesso tempo se non meno L'indisponenza di Alessia Tadei Ti ha mai fatto mettere in dubbio il vostro rapporto? Cioè l'avresti voluta mollare? Mi avresti voluto mollare in mezzo a nulla? Mollare in mezzo a nulla no Mi arrabbiavo anch'io e dentro dovevo ingoiare qualche rospo Infatti c'è qualcuno che nei commenti più volte ha detto che dovrebbero farmi santo Grazie alla comprensione amico Però oggettivamente cioè sapevo che stava facendo qualcosa fuori dalla sua portata Per cui stavo tranquillo Poi la sera bene o male arrivavamo ed era tranquilla Anzi ogni volta che arrivavamo poi era tutto abbastanza easy Ok però la domanda è un'altra È al di là della tua arrabbiatura momentanea per le mie lamentele Ti sei mai sentito che stava andando oltre? Sincero? Assolutamente sì Che era esagerata sì ma lo è sempre Anche quando non facciamo Ma no stava andando oltre la tua sensazione di esplodere Di insopportazione Di insofferenza nei miei confronti Quello? Ma mi staccavo con la bici Andavo avanti mi facevo i cazzi miei Ero tranquillo Quella era la mia risposta Stavi da dio Però mentirei se non avessi pensato che era esagerata a livello di come si stava ponendo Ok 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 Va bene ragazzi diciamo così Secondo me mi avrebbe mollata Dopo questa vacanza riesci ad immaginarti su un lettino per 20 giorni O preferiresti subire le mie lamentele Allora questa è tosta Non mi immaginavo su un lettino per 20 giorni Neanche prima Guai ci mancherebbe Te ne smetti di far casino principessa Cioè tu mi stai dicendo Meglio rifare una vacanza così O stare sul lettino 20 giorni Meglio rifare una vacanza così Tutta la vita Per l'anno prossimo Hai già una meta dei desideri E la vorresti raggiungere Sempre in sella O desideri un altro tipo di avventura Allora per l'anno prossimo Mi piacerebbe andare fuori dall'Europa Anche perché Alessia Tadei ha ottenuto il passaporto di recente Nello specifico Devo andarlo ancora a prendere Perché è speciale ma questo è un altro discorso Nello specifico sicuramente Asia sarebbe una tappa che mi piacerebbe fare Ma pure America Poi non spoileriamo nulla Anzi sì Alessia mi ha mandato la possibilità di fare un giro in ciclabile in Corea del Sud E quindi sarebbe sicuramente carino anche quella tappa lì Quindi lo faresti in bici di nuovo? Sì lo farei Magari ti allenerei prima un po' di più Quanto è stato faticoso Per un discorso di tempo Ma allo stesso tempo appagante Montare i video E avere comunque un riscontro dalle persone che ti seguono? Montare i video è stata una sbatta incredibile Non so se ho fatto più fatica a sopportare today O a montare i video Detto ciò sto di nuovo facendo un video che poi dovrò montare Questo perché mi dà molta soddisfazione sapere che c'è chi li guarda E nonostante siano numeri che mi rendo conto Essano molto piccoli Ma boh sento come posso dire del calore Non solo magari poi nei commenti che appaiono Ma anche nelle persone che mi dicono Figo ho visto il video mi piacete Che ridere è bello eccetera Vedete conto che a volte io montando i video Proprio delle clip neanche le guardavo Perché uscivano alle 6, 7, 8 di sera Spesso alle 4 dovevo ancora aprire il progetto di premiere Quindi un applauso a me Che sono così veloce a montare i video Ne ho fatto qualche migliaia per lavoro Quindi che si è schildato è in dubbio È arrivata la ultima domanda Che è anche quella che secondo me tutti stanno aspettando Ma il progetto Marianne Boss Esiste ancora? Ci saranno dei prosegui durante l'inverno O si è già interrotto tutto? Allora per il progetto Marianne Boss Io mi rifaccio a un commento Che è stato per me un commento molto bello Che chiedeva le FTP di Alessia Tadei Chiorato Non so se si vede ma qui alla mia destra C'è un rundo smart Che ho pagato tanto durante la pandemia In cui secondo me si può proseguire Con la preparazione invernale E vedere dove può arrivare Alessia Tadei Tra l'altro delle FTP sua sono curiosissimo anch'io Perché secondo me è una cosa veramente bassa Per cui avremo ampissimi, ampissimi margini di miglioramento E non so se lei vorrà mettersi a pedalare qui in casa Secondo me no Ma questo è quanto Ok? Vieni qua tu adesso Ti sono piaciute le mie domande? Sì abbastanza Prova a sederti che vedo com'era Sì abbastanza Premetto che abbiamo fatto le domande In separata sede ovviamente Allora la prima domanda Partiamo già con una domanda secondo me spicy Quanto mi hai odiato nei momenti più duri? Allora tanto Non glielo diciamo Di tutte le vacanze fatte insieme Questa in che posizione la metti? In ordine di preferenza? Ma vacanze sì vè? Sì Tre ne abbiamo fatte Sì infatti E boh probabilmente la prima Cioè al primo posto Perché mi è piaciuto Cioè io alla fine Alla fine della giornata Stavo da Dio L'unica cosa che cambierei In questa vacanza È Il punto di partenza O meglio Io quando ho scelto Di fare questa vacanza Avevo detto Facciamo due tre ore di bicicletta Però due tre ore di bicicletta Con il mio allenamento Non sono Ottanta chilometri Ok? Impossibile Che io te le faccio In due tre ore Quindi Diciamo che In realtà È la vacanza perfetta Perché lo ripeterei Sicuramente Tutto Però magari Con qualche modifica Quindi è il primo posto Non me l'aspettavo Hai mai pensato Che oltre ad aver sbagliato Vacanza Hai sbagliato moroso? Allora La vacanza Non l'ho sbagliata Era solo da aggiustare Il moroso Lo penso ogni giorno Anche qui a casa Non è vero Hai mai pensato Di mollare E non farcela Cioè di non proseguire più E dire basta Troviamo un altro modo Perché io non ce la faccio? No Sinceramente No Anzi Ci sono rimasta male Quando l'ultimo giorno A me mi era partito Un male Allora Io ho avuto tantissimi problemi In questa vacanza Che Igor Non ha sottolineato Nei video Ma li sottolineo Io ora Così tutti voi sapete Allora Siamo partiti Avevo il ciclo Cioè mi è arrivato il ciclo Il primo giorno Secondo me L'hanno notato Nel primo video Che avevi il ciclo Non serve dirlo Lì l'avevi anche detto A fine video Però Lo rispecifichiamo Quindi ho fatto La prima settimana Tutti i giorni col ciclo Quindi ogni giorno Una indisponenza Nel fatto che Mi dovevo cambiare Togliere Togliere E togliere Ok La bicicletta Secondo me Non è fatta Per le donne Ma nel senso No perché le donne Non la possono fare Però Cioè È poco pratica Ok Nel cambiarsi Al di là di questo L'ultimo giorno Mi era partito Un male Che non Non sapevo neanche io Tipo descrivere Ma dal nulla Dopo che avevamo fatto Tipo i primi 30 chilometri E ne mancavano Circa altri Boventi E Lì Igor Mi ha detto Prendiamo un treno E io ho detto Col cazzo Che prendiamo un treno Cioè L'ultimo giorno Ho fatto tutta la vacanza Tutta sta fatica E vado a Annullare tutti i miei sacrifici Prendendo un treno Eh no Io vado fino alla fine Infatti mi sono voluta Io fermare in una farmacia Quindi io Non No No Nessuna fatica Cioè nel senso Tante fatiche ma Stavo facendo tanta fatica Non avrei mai mollato Ti sei mai sentita In pericolo In questa vacanza? Sì Amici miei Sì Ma il primo giorno Mi sono cagata addosso C'era Igor Che mi ha portato Abbiamo fatto il nostro Primo pezzettino Di gravel Eravamo in mezzo Ai campi E c'erano Sti tre cani Enormi Ma cioè Quasi misura Lupo Vorrei dire Che abbagliavano E ci venivano Tipo contro Anche lì Abbiamo fatto retro E poi anche in altri Diciamo Percorsi Un po' In mezzo Troppo alla natura Scusa che Sposto queste cose Da qua Che c'è principessa Che vuole mettersi Nel suo posto Vabbè Comunque Quando eravamo Troppo immersi Nella natura Altra domanda Secondo me A questa Io ho già Una risposta Ti sei mai pentita Di avermi proposto Questa vacanza in bici? No Nei momenti di crisi Non ti sei pentita? Ma no Cioè È la È la risposta di prima Nel senso Non era un vero pentimento C'era Del Oddio Che fatica Oddio Che voglia di lamentarmi Mi dispiace Perché so Che sono stata Molto pesante Ti ho chiesto scusa Mille volte Però Era una cosa Del momento Cioè Io Senza quello sfogo Che arrivava Dalla mia bocca Non sarei andata avanti Però Dall'altra parte A me piaceva Quello che stavo facendo Ok L'anno prossimo Attraversiamo la Correa in bici? Non lo so No allora Appena fatto la domanda Se si è pentita Ovviamente No 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 Allora A questa No non rispondo a questa Perché Io ho visto il video E c'era tutta questa Fantastica ciclabile Ma devo un attimo Capire L'altimetria Ok Abbiamo finito Gira la Panca per così Che adesso Dispondiamo insieme Perché sei una donna Indipendente Allora Principessa Leggi tu la domanda Eccoci qui Siamo nella panchina Dell'amore Qual è stato In assoluto Il momento più difficile Senza ombre Il dubbio La tappa 1 Quando lei era in totale crisi Ma è stato Secondo me I 15 minuti In cui siamo arrivati La tappa 1 Perché lì era Incazzata Come una iena Sì Boh Allora Quello Ma forse Sarà che io ho sentito Tanto la stanchezza E proprio Non ce la facevo più La tappa Quando siamo arrivati a Porto Io ero proprio Morta lì Ma Morta Morta Se prima avevo le forze Lamentarmi Lì non ce le avevo Ero morta Ok Qual è stato Il momento più felice Vai prima tu Stavolta Non lo so Aspetta Ci devo pensare Ci sono stati Momenti felici Non lo so Allora Io ho E sono tanti collegati All'alcol All'alcol Io sto pensando Ma io ho Sicuramente La serata Che abbiamo fatto La sera Della seconda tappa O della prima tappa Quello dove ci davano I cocktail grandi Così Gin tonic Al veleno Ah ok Che è stato divertente Perché c'era proprio Un bel mood Era una città Di surfisti Non ricordo quali Adesso apparirà una clip E c'era questo Che cantava In mezzo alla strada Un po' Umbriachelle È stato Bello Poi La tappa Penisce Penisce Peniche In mezzo alla bici Nel bar dei vecchi A bere Gli aperitivi A 50 cent Poi È stato sicuramente Bello Anche arrivare a Santiago Quel momento È stato sicuramente Un momento Molto carino E anche Porto È stato bello Cioè Stare a Porto È stato proprio figo Non ce l'ho Facciamo un taglione Qui Allora È stato Un momento felice Quanto Molto triste L'incontro L'incontro Con Horus Ignorato Per tutto No scherzo Cioè Non lo so Beh Ma sei d'accordo Che i miei momenti Sono stati momenti carini Sì Però Cioè Per me in realtà Il momento felice Era proprio Quando arrivavamo Ogni sera Quando arrivavamo Sapevo che Finalmente Potevo tornare A essere Una persona E non il diavolo C'era della serenità Satana qua Ultima domanda Lo rifaresti? La mia risposta è Assolutamente sì Ma per un motivo Quando montavo i video Che Li montavo veramente Con Pesantezza In realtà Ero molto nostalgico Cioè Vedevo Il pezzo Di Giro in Bici E proprio Avevo una nostalgia Devastante Che Il viaggio mi è piaciuto Però Essere tornato E provare Tutta quella nostalgia Mi è La controprova Del fatto che Lo rifarei Subito Ripartirei Domani Sì Io lo rifarei Ma detto questo Non è con tappe più easy Meno dislivello Perché se no Mi va in crisi Però puoi dire Che secondo Cioè Sono migliorata È vero che è migliorata Ma l'ho anche detto In un video Che facevi gli ultimi tratti Di salita Stando in bici Bisognava solo Allenarsi un pochino Cioè Secondo me Se Pian piano 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 Posso dire Se non c'ero io Se non c'ero io Protagonista di questi video Voglio dire Dov'era la sosta Vero Ciao Ciao Un saluto anche Da parte di Principessa Saluta Principessa Fa miau Di qualcosa Ciao Ciao Ciao